Il treno regionale, 5687, di Trenitalia, proveniente da Salerno, è diretto a Paola, delle ore 7.22, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Marina di Maratea, Grisolia Santa Maria, Acquapesa. Il treno regionale, 5969, di Trenitalia, proveniente da Napoli Centrale, è diretto a Sapri, delle ore 8.11, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Policastro Bussentino. Il treno regionale, 5211, di Trenitalia, proveniente da Napoli Centrale, è diretto a Sapri, delle ore 9.52, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Policastro Bussentino. Il treno regionale, 52.02, di Trenitalia, proveniente da Sapri, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 10.29, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Celle Bulgaria Rocca Gloriosa, Centola, Pisciotta Palinuro, Ascea, Vallo della Lucania Castelnuovo, Agropoli Castellabate, Pestum, Capaccio Roccadaspide, Battipaglia, Ponte Cagnano, Salerno. Il treno regionale, 52.04, di Trenitalia, proveniente da Sapri, è diretto a Salerno, delle ore 11.46, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Omignano-Salento, Monte Corvino. Il treno regionale, 56.55, di Trenitalia, proveniente da Napoli Centrale, è diretto a Paola, delle ore 14.08, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Grisolia-Santa Maria, Acquapesa, Fuscaldo. Il treno regionale, 56.98, di Trenitalia, proveniente da Paola, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 14.12, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Celle Bulgaria-Rocca Gloriosa, Centola, Pisciotta-Palinuro, Ascea, Vallo della Lucania-Castelnuovo, Omignano-Salento, Agropoli-Castellabate, Pestum, Capaccio-Rocca d'Aspide, Battipaglia, Monte Corvino, Ponte Cagnano, Salerno. Il treno regionale, 55.80, di Trenitalia, proveniente da Cosenza, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 15.07, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Centola, Pisciotta-Palinuro, Ascea, Vallo della Lucania-Castelnuovo, Omignano-Salento, Agropoli-Castellabate, Pestum, Capaccio-Rocca d'Aspide, Battipaglia, Ponte Cagnano, Salerno. Il treno regionale, 5203, di Trenitalia, proveniente da Salerno, è diretto a Sapri, delle ore 18.46, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Policastro-Bussentino. Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.